questa era di Bivi che solo sporadicamente sono riusciti a superare la metà campo la schiaccia atletica dopo un primo tempo in cui le due squadre hanno batato a fronteggiarsi che solo in aria si è fatto ribattere il pallone da abbate in virtù di una prestazione precisa e puntigliosa e poi con Migiano la cui conclusione respinta da abbate colpiva la traversa e finiva in angolo ad inizio ripresa abile Cinello a districarsi altrettanto bravo abbate per questioni di mobilità diciamo che lo sa parte dritta e poi si abbassa e se non va così ultima emozione sulla torre di Cinello ancora Fonte ci riprova il guantone di abbate di Gasperini e Schiavi stava rientrando Pasa era in gioco anche se Sina che riesce a passare in denne sul campo sempre insidioso di Cremona Luzione di Lista dal limite dell'aria esterno destro e gran parata di abbate che sventa con un colpo di Reni la parabola a effetto di Morello e distinto la botta a colpo sicuro di Melchiorri non c'è l'inquadratura in linea l'impressione la difesa giallorossa il cross rosotera guardate un po' signori scassa la ghiottissima occasione qua è rivisto magari il derby in un match anacquato dai toni agonistici blandi in un caldissimo in un match anacquato in un match anacquato la combinazione vincente di Carlo Deograzia sabate e suose punizioni affidate al piede di Di Carlo il pesante passivo di Barlet Messina Ancona sono le tre partite che chiudono Buffoni ma anche Materazzi può commentare nello stesso modo alcuni svarioni della sua difesa di Abate respinge corsi e ricorsi del calcio risponde a Lecce con un gran titolo di Casale deviato da Abate e sul conseguente pubblico mai così scarso al San Paolo scuotono gli azzurri e di cominciare a lavorare sui fianchi gli emiliani anche se la prima vera parata Abate